Bentornati ragazzi in questo nuovissimo video di Brawl Stars sul mio canale Oggi faremo una partita a ricerca chi è qualche altra partita Giustamente Se vinciamo sbloccheremo con il tuo privilegio Come io spero Io sempre ho coltelato tutti e tre O colt Rockstar O colt normale Mi manca solo il Luigi Ok 5 a 5 Non ci ho Posso Vabbè Non ci posso credere No Ora non dobbiamo perdere subito per iniziare il video Non ci ho alto carlino vieni qua e sparte però ma che non sta bene qui l'ado ho capito cosa dobbiamo fare per vincere miglioriamoci speriamo che così vinciamo ci passi non ci passi credo devo capire un po' per da 3 attacca per 2 ore 10 scesso ora devo camperare l'unico pro della nostra squadra è la nostra si questa è quella buona non 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 un non 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 se Sono morta d'eruote e non ho burro mai perché sono il broguer più forte è un disperato e tu non mi indichi no non si vorrei leggere la ricerca, non? Questa è tutta la polizia Questa è tutta la polizia Questa è un problema Questa è un problema Non ci credo Aspettate un attimo Ecco ci siamo tornati dopo la pausa C'è la suolo ma a volte Non è molto forte Perché non vinciamo Non si cambia modalità perché non vinciamo Corvo Prima uccidete corvo Poi esco forte La corvo è troppo forte Qua non mi deve colpire una volta Non sono chi l'ha da corvo Questi colt qua speciali Questa è un monster Questa è l'unica 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 Non è il primo Vabbè Che cosa c'è che capita questo mi dice guardate funghi stella stella così stella e funghi sono ricercato colt fuorilegge quindi che cosa può star di meglio che una ricercati mentre l'acca meno guadagniamo dei pe perchè sparo lì? il mio sparo a casaccio non funziona mai lo dice sempre oh sandy ti devo ringraziare un botto non mi vedono cioè che sono un fuorilegge sandy è utilissima scegli di riempie di piume guarda come di come lag calma come lagga male come lagga male ok ok si grazie a me yes allora ricercati mi pensa proviamo eccoci qua un anticipo quello che faremo nell'epoca che non sarà il torneo giustamente prossimo video normale appena esce io faccio il torneo 17 ore ma non fa danno l'ultimo di semi giusto l'ho proprio bucato stiamo vincendo con tutto il laggo stava vincendo con tutto il laggo sopravvivenza su colte negale chi l'ha lato 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 sono tutto io se non sono il migliore ma migliore migliore con tutto il lag non ci vuoi credere eh ragazzi manca footbrog che devo dire sarà bravura ok un nono quindi non è bravura abbiamo corvi squadra è difficile essere lì corvo non sono guanitta io proprio sclero cosa faccio campero o bush non ci credo come è stato questo ma mi è stato migliore a raffaggiare è stata la cosa più bella so cosa starete pensando sì non c'è rappena ultima cosa e poi il video termina oppure no mi faccio la due e le due la due riccardo resto agilindo guarda com'è forte ci viene che mi capita sempre tomar c'è ma è un a che ce l'ha non può stare sempre in tutti i game contro di me nooo tranquila de 59 59 Dietro la casa Toma Bull This is not a good game Push I push Push L'abbiamo vinto Anche il rapino E' stata la migliore Se se lo merita Mi sopravvivenza E io ti darò a Colt Colt divenne tutto Allora Colt e Beryl Potrebbero essere un bel Power up Allora O qua Vero i morti Se sarebbe utile Io l'ho detto Praticamente a tutti Ecco di Beryl Non mi colgo fuori legge come l'ho lisciato devo vincerlo beh te li sei meritati un secondo posto che energia il video di oggi termina qua spero molto che vi sia piaciuto vi ricordo quando ci sarà il torneo di un posto a fare il video cercatelo un saluto a tutti let's go ciao